Il lupo l'aspetta. Pancio, il lupo l'aspetta, 16 lettere, secondo te? Bravo, bravo, cappuccetto rosso. Vediamo se sai questa. Eroe di Gotham City, 6 lettere. Questa la sapevo anch'io. Batman. A chi ci si rivolge per trovare un rimedio contro pulci e zecche facile da somministrare e di lunga durata? 11 lettere. Dai, Pancio, inizia per V. Ma no, vegetale, Pancio. 11 lettere, V. Ok, next. Grazie a tutti.